Mettiamo subito in campo la nostra operatività odierna, credo che se non sbaglio andiamo sul gold, però lascia a te la motivazione, target, livello d'entrata, stop. Allora sì andiamo sul gold, allora la motivazione è più che altro tecnica, nel senso che il gold da qualche settimana sta difendendo l'area, eccola qui, i minimi in area 1937 sono stati toccati sia a maggio che nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, quindi l'idea è che quest'area a mio avviso, salvo clamorose notizie strane, dovrebbe comunque reggere almeno i prossimi tentativi di rottura al ribasso, perché mi sembra un'area abbastanza importante come supporto, quindi l'idea è di entrare a mercato all'interessamento ancora di queste aree, quindi long a 1946 dollari, stop loss 1930 dollari, quindi un'eventuale rottura appunto dei minimi che sono stati registrati negli ultimi periodi, e target 1980, un po' ambizioso però appunto l'idea è quella che quest'area verrà difesa ancora e quindi dovrà rimbalzare. Grazie.